Potenziare il personale, riconoscere le richieste giuste di progressione di carriera, rinnovo del parco mezzi e di una parte della dotazione strumentale ormai datata. Il segretario regionale Will FPL Comparto Unico Michele Lampe ha preso carta e penna e ha messo di nuovo nero su bianco in una lettera indirizzata al presidente Fedriga le richieste già sottoposte all'attenzione della regione in merito al potenziamento del corpo forestale regionale. A maggior ragione, sottolinea il sindacato, quando si decide di utilizzarne il personale per il pattugliamento dei confini. Secondo Lampe, il corpo, su larga scala e per periodi prolungati, non può che essere di supporto alle altre forze di polizia, in modo da unire l'alta conoscenza del territorio dell'Uno all'operatività delle altre nell'ambito specifico del controllo dei flussi migratori attraverso ordinanze di ordine pubblico emesse dalle questure regionali che appunto prevedano l'utilizzo di pattuglie miste composte da due guardie forestali insieme a carabinieri o polizia o guardia di finanza. Nella nostra regione la forza disponibile si avvicina alle 300 unità che hanno in dotazione armi individuali da 15 anni, nonché mezzi molto particolari necessari a svolgere la propria attività. Il fatto che la regione abbia pensato di affidare anche al corpo forestale regionale un ruolo importante per quel che riguarda i controlli anti-immigrazione è da sottolineare positivamente, si legge nella lettera, a patto però che questa indubbia iniezione di fiducia sia accompagnata da gesti concreti.